Sì, giusto, ci servono i punti, vogliamo fare i punti contro Caserta, sicuramente dobbiamo stare attenti perché sono le squadre che non hanno niente da perdere, con tutto il rispetto, ovviamente, ma sicuramente arriveranno qua e giocheranno paravolo, quindi bisogna stare attenti, bisogna fare il nostro lavoro e cercare di migliorare in vista della prossima partita. Questa vittoria ci serviva davvero perché eravamo in difficoltà e speriamo, come l'hai detto tu, che sporta bene e un vero riscatto questa vittoria. Grazie a tutti.